Ha parlato in conferenza stampa della vicenda Costantino, ha detto noi gli auguriamo tutto il bene che abbia fatto la scelta migliore, però un po' il terreno è rimasto scottato da aver rifatto così la corte e aver messo sul piatto numeri importanti per lui. Abbiamo fatto il massimo che potevamo fare, lui l'ho visto molto convinto quando è venuto con noi da me la prima volta nel mio ufficio e poi se le cose sono andate così non è che io oggi posso dare la colpa a me o a lui, nella vita possono cambiare le cose da un momento all'altro. Noi tutta Teramo lo volevamo, non è venuto, non succede niente, è morto un Papa se ne farà un altro, speriamo che chi arriva ci dia grossa soddisfazione e andremo avanti sicuramente per la nostra strada. Torniamo alla vicenda di Matteo, amministratore delegato con il 20%, le chiedo al di là della soddisfazione di aver portato un altro socio all'interno della sua compagno societaria, un po' piano piano lo sta perdendo il Teramo o no? Spaventato da questa prospettiva? No, no assolutamente non ho spaventato, in questo momento do continuità al progetto perché la devo dare perché per capire anche chi vicino a noi ci si avvicina, è una cosa a cui tengo e penso che le persone sanno anche di questo. Poi se saranno fiori, fioriranno con lui, con altre persone vicine a noi, quindi, ma non è quello il problema, il problema è avere una compagine che sia forte, una compagine che sia una compagine dove la problematica, la crisi non ci deve essere.